Presidente De Bellis allora quest'oggi l'Alba Calcio trionfa in Coppa Italia, batte il Volpiano Pianese nella finale qui a Moretta, il Presidente ne parlava fuori onda, forse meno emozione rispetto all'anno scorso però un bis che è storia per voi e quindi una grandissima soddisfazione in questa stagione, ripetersi un anno dopo Sì hai ragione tu, meno emozione ma tantissima soddisfazione, tantissima felicità ma soprattutto per questi ragazzi che ci hanno creduto fin dall'inizio assieme a noi come società noi come società non gli facciamo mancare nulla, mettiamo a disposizione tutto ciò che hanno bisogno e loro ci hanno ripagati con questa meravigliosa vittoria finale Una partita che avete di fatto dominato quasi perché avete creato tantissimo, avete rischiato poco forse solo il più grande pericolo, avete corso dopo 30 secondi inizio partita ma per il resto avete creato veramente tanto quindi direi che con il 2-0 è meritato, forse potrebbe essere anche un po' più ampio il risultato Sì il risultato secondo me poteva essere più ampio, è vero come hai detto tu all'inizio dopo pochi secondi c'è stato uno svarione, un errore dove abbiamo rischiato tantissimo ma poi di lì in poi non abbiamo sofferto più nulla, a parte qualche sprazzi che magari ci hanno pressato dove non riuscivamo magari a ripartire però la partita è andata come si voleva Una Coppa diversa perché l'anno scorso non eravate favoriti contro il Borgaro, quest'anno effettivamente eravate favoriti e avete fatto una partita comunque da grande squadra, con grande compattezza, segno che nel giro di questo anno di lavoro ce n'è stato tanto e ha portato questo trionfo oltre al grande cammino a filore in campionato Sì è vero, certo la vittoria della Coppa Italia è una grossa soddisfazione quindi adesso ci ributtiamo già da mercoledì nel campionato dove riparte un altro obiettivo, speriamo E poi comunque ricordiamo c'è la fase nazionale della Coppa che vi darà di nuovo protagonisti e questo è comunque un piacere, un onore quindi sarà bello provare a giocarla Beh sicuramente, adesso non ci pensavo ancora, hai fatto bene a ricordarmelo, sì è vero adesso a febbraio ci saranno poi gli accoppiamenti e oggi si sono svolte le altre finali sia in Liguria che in Lombardia e noi saremo inseriti nel triangolare Piemonte-Lombardia-Liguria